Se ospitare un capo dello Stato a Pesaro è già di per sé un onore eccezionale, vederlo inaugurare un luogo della cultura nella piccola frazione di bottega diventa scrivere una pagina indelebile nella storia di una comunità. Quella di Vallefoglia che sabato scorso ha bruciato tutti sul tempo ospitando il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mezz'ora prima del suo arrivo alla Vitri Frigo Arena. Nell'occasione Mattarella ha tagliato il nastro del nuovissimo Teatro Giovanni Santi che arricchisce la cultura di un territorio diventando quartier generale della prima settimana del progetto 50x50 capitali al quadrato in programma Vallefoglia dal 22 al 28 gennaio. Emozioni forti per i tanti bambini delle scuole di Vallefoglia che hanno potuto stringere la mano al Presidente accompagnato nell'occasione dal Ministro San Giuliano e dalle principali istituzioni civili e religiose del territorio. E' per noi un'occasione veramente importante e straordinaria, è stato un impegno enorme da tutti i punti di vista ed è anche per me un orgoglio. Io ho avuto come Vice Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente Mattarella e poi Mattarella ha firmato il decreto istitutivo della città di Vallefoglia. Siamo qui in Piazza Piola Torre e via Pier Santi Mattarella, è un polo di contrasto alle mafie e l'educazione alla legalità. L'aula magna di questa scuola è intitolata Carlo Alberto della Chiesa, quindi ringraziamo il Presidente della Repubblica per questo regalo. E' stato anche un impegno, uno stimolo perché finire i lavori di quest'opera innovativa perché è un luogo per i giovani, per la musica, per il cinema, per il teatro classico e quindi diciamo che oggi è una bella giornata. Io credo che sia importante questa visita oggi di Mattarella e questa deviazione che ha fatto qui a Vallefoglia e poi andiamo già a Pesaro. E' un importante per tutta la nostra provincia. E poi devo dire, e qui lo ribadisco, io ringrazio l'amministrazione di Pesaro perché molte volte sento delle polemiche. Non dimentichiamoci che è Pesaro, città, che ha vinto capitale della cultura. Ed è stata un'intuizione dell'amministrazione di Pesaro di fare e di coinvolgere i 50 comuni della nostra provincia. Grazie a tutti.